Non raga non sto scherzando, c'è una skin gratis per tutti i giocatori, se ne hai tu la vedi c'è da 5 se non devi andare a lasciare un bellissimo like Quindi 5, 4, 3, 2, 1 e vai a lasciare un bellissimo like in questo momento se vuoi ricevere anche tu una skin gratis Beh raga andiamo a parlare qui di una skin gratis in arrivo, grazie per tutti i giocatori Perché non so se voi avete mai sentito parlare di questa skin, ormai pensi di si E' una skin che arriverà ufficialmente raga se la data non poi cambierà dovrebbe uscire questo martedì con il nuovo update Attraverso le feed del presente un amico, quindi noi dovremmo presentare un amico, giocare con il nostro amico e sbloccheremo questa skin Per esempio non so se vi ricordate che questa qua era l'ultima skin, la skin di Xander che era ancora disponibile fino a poco fa Beh quindi a posto di questo avremo questa nuova skin Fenix Inoltre se vuoi ricevere un regalo da parte di mi raccomando di Zircogli, supporto un autore, coding gamer, 512 Ciao ragazzi, bye